Fino al 13 febbraio torna la raccolta dei medicinali a cura del banco farmaceutico. Sono 42 le farmacie della provincia ad aderire alla raccolta che ha come obiettivo donare farmaci agli enti caritatevoli del territorio. Anche il sindaco e presidente della provincia di Macerata Sandro Parcaroli ha voluto partecipare acquistando dei farmaci, divenendo inoltre volontario della giornata di raccolta 2023. Ogni secondo sabato di febbraio, infatti, migliaia di volontari invitano i cittadini a donare i medicinali di cui c'è più bisogno. E proprio secondo i dati, negli ultimi 20 anni si stima una raccolta di oltre 5 milioni di farmaci.